E non può che cominciare così questo video, il video del lunedì, il video dell'aggiornamento con il mio Bitcoin d'oro, Porta Fortuna, che ci accompagna da tre anni. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare il recap della questione ciclica, analisi tecnica e in questo caso resistenze di Bitcoin per capire che cosa può succedere o potrebbe succedere nei prossimi giorni di questa settimana il super pump avviato nella giornata di sabato-domenica da parte di Bitcoin e duraturo può continuare nelle prossime settimane o no? A che punto siamo? Che cosa ci dicono gli indicatori tecnici? I prezzi? Che cosa stanno dicendo? Ho pubblicato uno short ieri, ragazzi, dove vi facevo vedere sul canale YouTube che in effetti eravamo proprio in concomitanza con un livello importantissimo. Bitcoin sta tentando di distruggere questo livello nella giornata di oggi. Se ci uscirà, secondo me, siamo a cavallo per vedere un super big pump nei prossimi giorni. Ma ragazzi, allora, prima di andare a vedere i grafici vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi faccio vedere che cosa c'è qui accanto, anzi dietro di me, subito una serie di grafici perché oggi guardiamo una serie di grafici, ragazzi, che sono dei grafici sia i classici di analisi tecnica, analisi ciclica, però vi mostro anche i grafici macro, quelli che riguardano proprio la total market cap e andiamo a vedere anche il grafico di Bitcoin contro S&P 500. Quindi andiamo a vedere come si sta muovendo, in che relazione si sta muovendo Bitcoin con i mercati old perché è un grafico che vi ho mostrato mesi mesi orsono per farvi vedere come sta pitturando, disegnando esattamente quello che ci aspettavamo. Va bene, si va! Ok, eccoci davanti alla grafica. Iniziamo dall'analisi tecnica e ciclica di Bitcoin. Facciamo il recap generale dell'attuale situazione. Il giorno 28, ormai lo indico così come Ethereum, il 28 di ottobre è iniziato il nuovo ciclo mensile di questo ciclo annuale, ragazzi, che è veramente molto bello, molto forte. Il ciclo annuale è iniziato probabilmente luglio barra giugno, secondo me è più giugno che luglio, comunque poi lo vedremo con calma e sta dando grandi soddisfazioni. Allora, qui siamo nel nuovo ciclo mensile del mercato da pochissimo tempo perché non è passato granché, ragazzi. Allora, qui nella giornata del 6 di novembre è stato chiuso un 9 giorni, che è un ciclo di natura, si definisce ciclo di natura settimanale, un 9 giorni fatto così e da qui in poi adesso sta iniziando un altro ciclo settimanale. Comunque non vi devo con queste cose, siamo a 11 giorni del nuovo ciclo mensile. Bitcoin aveva uno scoglio importantissimo, ve l'ho mostrato ieri con lo short su YouTube, cioè il break di questo livello, ma poi il vero, 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 vero break era questa zona qui, i 64 mila dollari. Breccati i 64 mila dollari questa notte, per chi era come me a luna, oltre luna, alle due di notte, italiane davanti lo schermo, abbiamo assistito a una super boom, perché è stato breccato proprio quel livello e il mercato è andato su. Ora, che cosa è successo? Si sta bloccando un po' la fase realzista, come giusto che sia, proprio in concomitanza con questo livello, cioè il doppio massimo. Livello che assolutamente è un livello importante, quindi i famosi 66, Bitcoin c'è arrivato veramente in pochissimo tempo, adesso sta riflettendo. A dirvi la verità, ho inserito un altro super buy per questo tipo di posizione, perché dovevo recuperare i famosi short di copertura inutili, tra l'altro, che avevo fatto tempo fa e quindi sono andato a leva un po' alticcia. Nelle mie accademi, lo sanno, l'ho indicato ieri, prima della situazione, ma pensate un po', nonostante la leva alticcia, con questo papo ancora non ho recuperato, manca poco, 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 un pochino, poi vi faccio vedere la mia posizione di breve, che vi ho mostrato su PrimeXBT nelle scorse settimane. Allora, quello che penso io è che il mercato, essendo iniziato un mensile da poco, 11 giorni, deve ancora esprimere la sua fase di massimo, dove potrebbe essere il massimo, in che area temporale. Andiamo a vedere questa cosa. Ok, allora, se questo mensile potrebbe durare, diciamo, secondo me oltre i 30 giorni, perché lo vedo abbastanza pronunciato, quindi probabilmente potremmo arrivare intorno a fine mese di novembre per l'espressione di questo mensile. È vero che ci sarebbe un po' troppo lungo rispetto al precedente, però secondo me la questione può continuare così per questo mese, perché i mesi di alzisti sono sostanzialmente più lunghi. Dove potrebbe essere in area temporale il massimo di questo boom del ciclo mensile di Bitcoin iniziato il 28 di ottobre, vi ricordo, in questa zona qui. Quindi tra il 18, quindi dopo il 15 di novembre, e intorno insomma al 15 alla 23 di novembre. Ovviamente questa zona temporale, che è più o meno una settimanina, potrebbe darci il massimo di questo ciclo mensile. L'ultimo scoglio che rimane da battere per quanto riguarda Bitcoin è esattamente i 67 mila dollari. Il mio famoso livello di target price lo scorso anno che Bitcoin stenta a distruggere, ma se durante anche la giornata di oggi o domani stesso dovessimo assistere ad un break di questo livello, probabilmente ci sarà una corsa all'acquisto. Corsa all'acquisto che si potrebbe sviluppare in due modalità diverse. Una prima fase con il classico pump and dump, perché probabilmente c'è incertezza, ma se poi il mercato si accorge che il break dei 67 eventuali, se dovesse avvenire ragazzi, ovviamente non do così finanziare, sono idee generali, questa è una mia opinione, se dovesse avvenire in maniera considerevole il mercato andrà a super pompare il Bitcoin. Detto così, vabbè, è un po' strano. Perché? Perché poi tutti diranno, ok, stiamo andando a fare il break tutti sopra il carro. A quel punto i famosi 10k di Plan B di cui parlavo ieri nelle varie candele, 10k per ogni giorno potrebbero essere possibili. Non lo so per ogni giorno, ma in qualche giornata è possibile perché i mercati delle cripto accelerano in queste situazioni e soprattutto danno moltissima importanza al tuo emotivo. Quindi in questo caso, attenzione, mi raccomando, non fate contro trend a qualcuno che venisse in mente di andare a fare un contro trend contro Bitcoin in questo momento. Va bene. Allora, sono molto contento di questa fase. Andiamo a vedere anche ETH. Quali sono i supporti? Ve li dico, giusto per correttezza, 64.000 dollari. Questo è il primo livello, quello che precedentemente vi ho indicato come livello strano, importante, questa zona qui. Adesso funge da supporto. Ovviamente questa giornata ancora non è chiusa, si presume chiuderà al di sopra dei 64. Se dovesse breccare di 64 una giornata di oggi e ritornare indietro sarebbe un disastro. Quindi poi comunque faremo un aggiornamento eventualmente. Dove succedere una cosa del genere, passiamo ad ETH. ETH, dov'è la situazione? Anche qui ETH proprio non la vuole smettere di avere un trend definito in maniera veramente lineare. Se metto una linea di chiusura, guardate che cosa sta facendo. È un trend lineare, estremamente rialzista, spinto in maniera abbastanza rilevante anche dalla nuova logica che riguarda la regina delle cripto. Cioè il fatto che per alcuni giorni addirittura diventa non più inflazionato, perché si bruciano i token, si bruciano le coin eccetera. Questo è molto rilevante perché sta cambiando l'atteggiamento alla regina delle cripto e assume sempre maggiore capitalizzazione rispetto a Bitcoin. Siamo vicini al 20% della capitalizzazione dell'intero mercato cripto. Quindi complimenti ad ETH che secondo me continua ad essere tra le top 5, anche se Solana adesso è arrivata in maniera dirompente, ma sicuramente la coin più importante del 2021 secondo me è sicuramente ETH insieme a Solana, ma Solana prima non era nelle top 5 e invece ATH ha dato veramente un grande lustro al mercato delle criptovalute. Poi speriamo ovviamente sono inutilizzabili i servizi dei file con ETH, lo sapete tutti ragazzi, senza senso. Allora ancora qui non c'è nessun segnale di reverse, non ci sono livelli di resistenza davanti, c'è i 5000 e sicuramente poi i 5 e 6, quelli che vi dicevo prima. Anche qui da un punto di vista di tempo abbiamo una possibile area di massimo intorno alla zona del 20 di novembre, quindi qualche giorno prima, qualche giorno dopo. Ancora qui probabilmente il mercato può arrivare tranquillamente a superare i 5000 e spostarsi in questa zona qui intorno al 20 di novembre, giorno più, giorno meno. Quindi long, 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 anche su la regina delle cripto non cambia assolutamente niente. Tra le altre cose ragazzi vi ricordo le coin che vi ho mostrato l'altra volta nelle top 3 coin che potevano andare a fare veramente numeri interessanti, anzi facciamo una cosa adesso ve le dimostro, quelli del video precedente, proprio il penultimo, stanno andando al stragrande perché sono CRO, DOT e AVAX, vi faccio vedere anche cosa hanno combinato contro Bitcoin proprio in super in super slancio. Vedete qui abbiamo indicato il long, AVAX contro Bitcoin, quindi oltre al rialzo di Bitcoin ancora più rialzo. Solo DOT sta leggermente scendendo rispetto all'ultima analisi e continua il CRO a fare i grandi numeri. Sono molto contento di queste chicche che ogni tanto vi do. Passiamo all'ultima parte del video perché volevo farvi vedere quelli che sono i macro indicatori in primis la Total Market Cap, ma poi vi faccio vedere questo che è il grafico più importante di oggi, quello nuovo, che è il rapporto tra Bitcoin ed S&P 500. Quindi andremo ad analizzare questa cosa fra due minuti. Ok, iniziamo dalla questione legata alla Total Market Cap. Total Market Cap che indica intanto sul time frame settimanale, così lo vediamo più zoomato, non serve fare un'analisi di natura giornaliera su questo tipo di indicatori. intanto guardate che livello di rialzo che c'è stato nei mercati delle criptovalute lo scorso annuale, 1620% per la Total Market Cap dei mercati. Questo ciclo annuale è che è stato chiuso, quello è stato chiuso a, qui lo indica come giugno, ha portato un rialzo di quasi il 1000% tra minimo e minimo, quasi 1000%. Qui dove siamo? In questa fase. Allora questo è il discorso, andiamo a vedere dove siamo in questo momento. Questa è la struttura del ciclo annuale, lo vediamo più zoomato in questo caso. Siamo in questo momento al 148%. Il mercato potrà arrivare anche molto più su. Guardate quanto spazio c'è se si verifica un ciclo annuale importante. E poi soprattutto siamo ancora nella prima parte del ciclo annuale. Vi faccio vedere la struttura di lungo periodo perché sulla Total Market Cap è più facile andarla a disegnare e andarla a evidenziare. Qui siamo nella prima metà del ciclo annuale, quindi siamo ancora nella prima metà. Potremmo fare il massimo qui e poi scendere tutta la seconda parte. Questo è vero, ma non è detto perché potremmo anche disegnare un ciclo annuale così come è avvenuto questo, dove si è scelto diciamo soltanto negli ultimi periodi. Quindi da maggio in poi, se vi ricordate, mi aspettavo la close da marzo in poi. Infatti il mercato poi invece ha ritardato addirittura perché è stato fortissimo questo ciclo. Quindi poi andremo a vedere questa cosa. Ancora una volta la Total Market Cap ne risente per circa il 63% tra BTC ed ETH. Quindi è soprattutto queste due cripto che va a rappresentare questo indicatore. Poi dietro ci sta tutta la fanfara delle altre cripto, però in sostanza è come vedere Bitcoin ed ETH messi insieme e poi un'altra cripto gigantesca che viene rappresentata da tutte le altre. Quindi questo è importante da andare a dire. Qui abbiamo ancora spazio, sicuramente i 3 trillion sono raggiungibilissimi entro breve e poi bisognerà capire di che pasta è fatto questo mercato. Se Bitcoin dovesse effettivamente andare su pesante, questo Total Market Cap si alzerà sicuramente anche al di sopra dei 3 trillion e mezzo. Va bene? Allora andiamo a vedere l'ultimo grafico. Per oggi abbiamo dato quello relativo ad S&P 500 contro Bitcoin. Vi faccio vedere dove siamo e che putto siamo. Se vi ricordate qualche mese fa, quando vi ho mostrato questi grafici, ne avevamo anche inizio anno, vi spiegavo anche che andare a guardare questi rapporti ci dà anche un'espressione di quello che può essere un altro punto di vista, cioè il rapporto fra i mercati del criptovalute e i mercati classici. E a livello ciclico c'è un super trend negativo di Standard & Poor's 500, quindi i mercati old contro i mercati delle cripto. Quindi perdono costantemente potere e forza relativa rispetto ai mercati delle criptovalute, che invece guadagnano molto di più rispetto ai mercati old. Questo lo possiamo vedere da un punto di vista grafico, ma anche questi cicli, queste strutture sono anche rappresentative di cicli storici, che sono importanti da guardare perché possono darci l'indicazione su dove potrebbe iniziare un eventuale mercato orso per le criptovalute. Quindi ci spostiamo avanti ragazzi, ci portiamo avanti, quindi mettiamo le mani avanti per cercare di capire anche ma a che punto siamo di questo maxiciclo. Andiamo a vedere anche le relazioni, quindi intermarket, tra questo tipo di grafici e di mercati. Allora, questo è il super ciclo ribassista di Standard & Poor's 500 contro Bitcoin, quindi ciclo ribassista in questo caso ci indica che l'S&P 500, quindi la old economy, chiamiamola così, perde forza relativa contro Bitcoin e questo grafico lo evidenzia. Allora, questo super maxiciclo di 1645 giorni è pari in sostanza, molto simile, in sostanza ai classici cicli dell'albing di Bitcoin, scusate ragazzi, sta avendo una struttura di natura ternaria, ve la mostravo qualche mese fa, 1, 2, 3, qui siamo nell'ultima pezzettino che dovrebbe andare a fare questa parte qui. È proprio l'ultimo baluardo, è questo livello, non è importante il livello quanto da un punto di vista geometrico, quindi la forma di questo ciclo che è l'ultimo annuale che state vedendo, quindi è l'inverso dell'annuale di Bitcoin in pratica ragazzi, ok? Perché qui siamo in rapporti invertiti di forza. Allora, questo qui potrebbe essere in una fase di leggero recupero per poi andare a fare il finale, quindi anche su questo grafico si evidenzia in maniera molto chiara che potremmo assistere a breve ad una fase finale di bullrun dei mercati delle cripto. È per questo che anche nei precedenti video vi ho indicato che era iniziata la bullrun delle cripto, abbiamo l'ultimo scoglio per Bitcoin, probabilmente da lì poi si switcha anche ad altre coin che sono estremamente interessanti, tanto è vero che in Academy ho avviato un nuovo progetto proprio questa mattina per creare un train system sulle midcap che sarebbero più speculativa già di quelle che abbiamo perché abbiamo un train system che è entrato su moltissime coin che hanno fatto anche oltre il 100% nelle ultime settimane, ma mi interessa entrare sulle mid perché sono più esplosive, possono dare addirittura il doppio della soddisfazione di Bitcoin, usando dei sistemi di trading ovviamente ci proteggiamo anche dalla questione del crash perché saremo sempre trend follower e facciamo decidere a una macchina se chiudono i stop loss o meno e quindi mi piace molto questa cosa, tante tante belle news, forza a Bitcoin, andiamo avanti così ragazzi, io spero che qualcuno di voi abbia fatto tesoro di tutte queste indicazioni e sia sul cavallo giusto, sia in pole position con noi in questo rialzo, incrociamo le dita e vediamo, si breccano questi 67 e la volta buona novembre può dare soddisfazione. Ciao a tutti, buon inizio settimana.